Separazione Francesco Totti-Ilari Blasi, le news 14 settembre 2022-133 L'ex fidanzato di Ilari Blasi, stava con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava ai tempi sapevo che si messaggiava con Totti Davanti alle sue avance non c'è stato nulla da fare, racconta Sean Brocca, il fidanzato che Ilari Blasi lasciò per l'ex capitano, nei messaggi inviati a Fabrizio Corona Era senza talento, senza di lui non avrebbe fatto carriera Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Separazione Francesco Totti-Ilari Blasi, le news attiva gli aggiornamenti poco prima che l'account Instagram di Fabrizio Corona venisse per l'ennesima volta bloccato dalla piattaforma L'ex paparazzo aveva pubblicato le dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato di Ilari Blasi, l'uomo con il quale conviveva a Milano e che ha lasciato per scappare a Roma tra le braccia di Francesco Totti Un tassello, quello di Corona, che rientrava nel suo piano di rivelare presunti dettagli oscuri sulla vita privata della conduttrice Corona sapeva bene dove stava andando a parare, visto che l'opinione del personaggio sulla questione, Sean Brocca, non è delle migliori Le foto di Sean Brocca e Ilari Blasi ai tempi del loro amore, Ilari ancora dipinta come fredda calcolatrice sono passati 20 anni e Brocca assicura di non provare per la conduttrice alcun rancore, eppure afferma, lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con passaparola come tutte le altre, nei messaggi inviati a Fabrizio Corona Proprio la risposta che l'ex paparazzo attendiva, non a caso Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilari, anche se le ha fatto molte corna Penso piuttosto che lei sia stata sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera, aggiunge Insomma, Ilari avrebbe approfittato finché ha potuto, pur incassando tradimenti dei quali sarebbe stata perfettamente a conoscenza Alla fine lei lo ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era ben sistemata Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva Quando Ilari Blasi lasciò il fidanzato per Francesco Totti la storia è ormai più che nota Francesco Totti ha corteggiato con non poche attenzioni Ilari Blasi, che ai tempi era fidanzata e conviveva a Milano Dopo averla notata in tv, ha chiesto il suo numero, l'ha invitata allo Stato e l'ha convinta a cambiare vita con la dichiarazione d'amore se è unica Così Ilari lo ha scelto e ha piantato l'allora compagno Brock con il quale sembrava avere intenzioni serie Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui, ha ricordato l'uomo a Corona Quando se n'è andata per andare a Roma, ho trovato all'interno dell'armadio nella casa dove vivevamo, due lettere e un regalo, un peluche con al centro una nostra foto, che non mi aveva mai dato Probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d'amore di Totti non c'è stato nulla da fare E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video